Pensiamo ad arrivare più o meno fino alle 9, poi alle 9 partiamo con il Guatemala. La serata sarà più o meno organizzata in questo modo, ci saranno dei filmati, ci saranno delle musiche, ci saranno delle letture che infarmezzeranno gli interventi. Allora, prima di tutto volevo, visto che stiamo commemorando i 40 anni del Corpo di Stato in Cile, poi abbiamo pensato di abbinare la commemorazione del Corpo di Stato in Guatemala, e poi, tutti sapete, oltre a queste tragedie, la tragedia di oggi di Lampedusa, dei morti di Lampedusa, chiedere a voi di fare un minuto di silenzio. Per la parte che riguarda il Cile, qui con noi, Flavio Gamberoni, che poi presento, per la parte del Guatemala, qui con noi, Marcella Antonini, che lo presenterò poi successivamente. Ci sono gli amici e i giornalisti, Fausto Bonoldi e Andrea Ganugi, che sono qui, poi vedremo le modalità del vostro intervento. Più tardi, verso le 9, arriverà il presidente dell'ANUP, Angelo Chiesa. Adesso, quello che noi volevamo fare con Flavio, Flavio Gamberoni, figlio di Partigiano, che era cooperante in Cile, proprio nel momento in cui c'è stato il Corpo di Stato, infatti poi è stato espulso, ma magari ce lo dici tu meglio. Volevamo iniziare, mentre tu parlerai, con una proiezione di manifesti, che sono i manifesti che tu con altri avevi portato dal Cile, e quindi manifesti dell'epoca, che riproducono quella che era stata l'esperienza dell'unità popolare, che abbiamo cominciato a vedere nel filmato. Gli elementi di fondo, che poi torneranno anche nella parte del Guatemala, e copiati verso la forma socialista di gestione, poi parleremo meglio del Guatemala, che è anche più complessa, che è stata l'unità popolare, che è stata l'unità popolare. Comunque, quello che capitò a noi fu la fortuna di avere l'assistenza della nostra ambasciata, e qui devo fare un ringraziamento con il fatto che i nostri funzionari non solo svolsero un importante lavoro riferito ai connazionali che stavano in pericolo, e noi eravamo in pericolo, con la nostra ambasciata. Ma la nostra ambasciata, il nostro governo, non riconosce mai l'aggiunta militare del Cile. Ecco perché le nostre ambasciate diventarono luogo di rifugio, di raccolta e di successivo smistamento dei paesi europei dei vari profughi. pochissime altre ambasciate fecero la stessa cosa, e parecchi paesi si detterono da fare un brevissimo tempo per riconoscere di fatto l'aggiunta militare. Quello che facciamo noi è rientrare in Santiago, raccattare le nostre poche cose, e col coprifuoco in atto, spostandosi da un albergo all'altro, riuscire ad arrivare a Valparaiso ed imbarcarci sulla prima nave in partenza. E questa fu la fine del nostro soggiorno, una fine di rigata, del nostro lavoro in Cile. Eravamo volontari di comunicazione tecnica. Questo significa che stavamo svolgendo quello che sarà poi chiamato servizio civile, con una piccola differenza che allora lo potevi fare solamente all'estero e doveva durare due anni. Quindi nel 71, con un'altra decina di ventenni, perché quella era la nostra età, partimmo alla vuota decina. Inseriti in due progetti, entrambi di insegnamento, la metà in Santiago e l'altra metà, la mia, in una scuola agricola. Dovevamo prendere le lastre calde del rame con le mani e depositarle sulla pala meccanica. Uscivano quasi ardenti, pesavano come il mondo. E noi estenuati trasportavamo le lamine del minerale. Da volte qualcuna ti cadeva sul piede e lo fracassava, o sulla mano e ti lasciava un moncherino. Vennero i gringos e dissero, portatele più in fretta, andrete a casa prima. Ma la pena, per andarcene prima, accorciavo i tempi. Ma quelli insistetero, ora lavorate meno, prenderete meno. E ci fu sciopero alla Casa Verde, dieci settimane di sciopero. E quando torniamo al lavoro, bastò un pretesto. Dove hai i tuoi arnesi? Mi gettarono in mezzo alla strada. Guardi queste mani. Sono soltanto calli che mi ha prodotto il rame. E mi senta il cuore. Non le sembra che mi sobalza. Il rame te lo maciulla. E ora posso andare a stento da un posto all'altro, affamato. A chiedere lavoro. E non lo trovo. Mi pare che mi vedano ricurvo. Come se portassi dentro le foglie invisibili del rame che mi uccidono. Il 17 giugno del 1954, circa cinque anni prima dell'ingresso di Fidel Castro a Lavana e diciannove anni prima del colpo di stato in Cile di Pinochet contro Salvador Aieno, un esercito di mercenari guatemaltechi al comando del colomeno Castillo Armas e controllato dal colomeno Rutherford della CIA, attraversava le frontiere di Pinochet con il Salvador e l'Ordona e si preparava a rovesciare il governo del presidente Jacobo Armitz Guzman. Questa invasione terrestre, programmata dalla CIA con il nome di codice CV Success, i documenti di questo intervento sono stati declassificati. Quindi oggi si conosce tutto sull'invasione del Guatemala. Ci sono anche dei libri fatti con questi documenti. Adesso dunque sappiamo che il colpo di stato è stato organizzato dalla CIA. Questa invasione dunque era stata preceduta da bombardamenti sui porti guatemaltechi e sulle ferrovie. Gli aerei americani erano pilotati in gran parte da piloti americani ed erano decollati da Nicaragua, da Honduras e da Panama. Questa invasione terrestre era stata preceduta da un'offensiva diplomatica contro il governo Armitz, accusato di essere comunista. è il segretario di Stato degli Stati Uniti di quel tempo, John Foster Douglas, che ha organizzato una riunione che si è tenuta all'organizzazione degli Stati Americani che per schermo era stata definita al ministero delle colonie con riferimento agli Stati Uniti. Questa riunione ha avuto una risoluzione adottata all'unanimità, meno un voto, che condannava dunque il governo Armitz. Il voto che mancava, come natural, era quello del ministro degli esteri del Guatemala, Guillermo Torrieno. Grazie.